Francesco Bellavista Caltagirone è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Roma per l'indagine relativa al porto turistico di Fiumicino, che aveva già portato nel novembre scorso al sequestro dell'intera area del cantiere, per un'estensione di circa un milione di metri quadrati. Le accuse nei confronti dell'imprenditore sono di frode in pubbliche forniture, appropriazione in debita e trasferimento fraudolento di denaro a terzi. Caltagirone era già finito in carcere l'anno scorso per un'inchiesta sui lavori del nuovo porto d'Imperia. Secondo gli investigatori, le modalità con cui il concessionario ha gestito contrattualmente l'esecuzione dei lavori attraverso una catena di appalti e subappalti presentano molteplici anomalie non spiegabili, se non con il tentativo di mascherare intenti fraudolenti.